Che stanno facendo tutti i radunati qui? Oh, santissimo cielo! Arriva, paparino! Ho sempre voluto conoscerlo, chissà com'è! Uh! Parlo con le paparelle! Ma, Charlie, come stai? Per di un cibacco non sembra poi tanto male! Pare un tipo a posto! Penso che potremmo persino... Aspetta un minuto! Gli occhi mi ingannano! E invece è proprio così! Lo stronza un bastone! Sono l'unico demon in questo hotel che può averne uno! Oh, ciao, gattino! Guarda che bastone patetico! Non ha nemmeno un occhio sopra! Oh, ma guarda un po' che posto... Ehm... Ahà, è molto... Pensa a Lucifero e tua figlia, non fare cazzate! È molto... rosso! Sfangata! Wow! Chi ha deciso di mettere tutto questo verde? È stata una mia idea! Sai, ho una posizione importante qui, come intuirai dal mio... Bastone! Chi sei tu? Alla store! No, questo tipo non mi piace! Hai un bastone dall'aria davvero interessante, sai? Sicuramente ti è di aiuto per raggiungere i ripiani alti! Che originalità! Farei altre battute, ma non vorrei abbassarmi a quel livello! Sono al di sopra di queste cose! Ok, chi sei tu? Sono il demone del radio! Una figura assai potente, come si capisce... Dal bastone! No! È un microfono su un'asta! È un bastone ed è meglio del tuo! No, rende solo la tua voce più fastidiosa! Col mio uccido gente! Perché da solo non ce la fai? Il tuo è solo una stupida mela! Meglio di una radiolina! Fanculo!